Un caro saluto a tutti i partecipanti, sono molto dispiaciuta di non esserci ma come sapete io sono Umbra e da Umbra sto seguendo le imminenti elezioni regionali e proprio in quei giorni ho degli impegni improrogabili. Sapete quant'io si è affezionata a FIAIP, grazie all'interessamento, all'incessante lavoro del past presidente merito, presidente Paolo Righi che saluto con affetto e voglio salutare anche Baccarini perché tra Righi e Baccarini mi incastrano spesso nei lavori di aula con i loro suggerimenti. State facendo come sempre un gran bel lavoro, io sono come sempre a vostra disposizione. Il titolo di quella tavola rotonda dove dovevo essere? Bancomat di Stato oppure volano per l'economia? Ecco questa domanda non si dovrebbe nemmeno porre in un paese normale ma sapete che per parte della politica possedere la proprietà privata, possedere un immobile è una colpa, non è un merito, non è il merito di quei genitori o quei nonni che hanno lavorato una vita per poter consentire ai propri figli, ai propri nipoti di stare tranquilli, di vivere un po' meglio di quello che loro avevano vissuto. L'80% degli italiani è proprietario di una casa e colpire la proprietà immobiliare è colpire l'80% delle persone. In un paese normale non si potrebbe pensare ad utilizzare ciò che invece come colpa e come Bancomat, ciò che invece dovrebbe essere il vero volano dell'economia. Sappiamo tutti che un investimento nell'immobiliare equivale a tanti investimenti in altri settori, è sempre stato l'immobiliare e il treno dell'economia. Purtroppo dal 2011 è successo veramente di tutto. Oggi possedere un appartamento diventa fonte di ansia, di angoscia perché non si ha la certezza di quello che potrà essere, di quella che potrà essere la tassazione futura, non si ha la certezza di rientrare in possesso di case occupate abusivamente. Tante sono le incognite, tanti i dubbi. Io resto a vostra disposizione, auguro a tutti buon lavoro e spero di vedervi presto in Parlamento.